ben ritrovati amici di youtube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calciomercato anche se è sabato sera anche se il weekend è scattato comunque le trattative sono calde oggi è stato loca for day a milano fatto le visite mediche ha fermato il contratto maglia numero 17 ereditata da rafaleao contratto alla fine quinquennale non quadrennale come si pensava inizialmente a 2 milioni a stagione 15 milioni al salisburgo milano molto attivo come vi ho svelato in questi giorni lunedì potrebbe essere il ciuqueze dei e potrebbe esserci una contropartita nella alviglia real tra gabbia ed orighi lavori in corso comunque operazione da 28 milioni bonus compresi parleremo tanto di inter dei rinnovi importanti di roma e napoli e del caso mbappé partiamo dai rinnovi perché napoli ha blindato il suo capitano giovanni di lorenzo rinnovo sino al 2028 3 milioni nette a stagione più 500 mila euro di bonus faci con opzione al 2029 praticamente un matrimonio a vita perché di lorenzo avrà allora 36 anni adesso una 30 quindi di fatto di lorenzo si lega vita capitano simbolo a vita del club azzurro campione d'italia quest'anno con lo scudetto sul petto napoli che ha offerto il rinnovo zielinski con riduzione dell'ingaggio dagli attuali 4 milioni a 3 milioni a stagione si aspetta una risposta da parte di zielinski offerte sino al 2028 zielinski anche che ha una proposta più remunerativa da parte della lazio 4 milioni e mezza stagione bonus inclusi che ha un offertura ricchissima dalla lali per andare in arabia saudita 12 milioni a stagione per tre anni ma lui non è convinto con tutto il rispetto da parte della proposta saudita quindi la messa in stand by diciamo che un po queste sono le situazioni in casa in casa azzurra risaliamo la penisola perché da napoli andiamo nella capitale a roma dove la roma è pronta a blindare la sua stella il suo miglior giocatore quello che fa la differenza ovvero la hoia paolo di bala pronto il rinnovo sino al 2026 con opzione per il 2027 attualmente con scadenza 2025 con opzione per il 2026 quindi un piccolo prolungamento ma sostanzioso dal punto di vista economico ricordiamo che di bala che chiedeva 8 milioni alla juve per rinnovare che aveva richieste molto elevate alla fine poi andato alla roma l'anno scorso di questi tempi un anno fa esattamente per 4 milioni e 200 mila euro con tutta una serie di bonus che potevano far lievitare i suoi monumenti a 6 milioni ecco si riparte da questi 6 milioni che devono diventare la base fissa più un e mezzo 2 di bonus 2 di bonus e la richiesta del suo agente antun che insieme all'uomo dei contratti del gruppo di bala carlos novel sono in questo momento nella capitale a roma vedranno a breve tiago pinto mentre la roma vorrebbe inserire un milione un milione e mezzo di bonus insomma balla qualcosina da sistemare ma 6 milioni più un e mezzo 6 milioni più 2 questa è la base per prolungare con l'allungamento del rapporto sino al 2026 con opzione per il 2027 abbastanza semplice da far scattare soprattutto con la cancellazione e qui invece scende in campo la roma che è molto forte su questo tema dicevo appunto con la cancellazione della clausola recissoria ritenuta molto molto insidiosa molto molto pericolosa dal club giallorossa causa recissoria che ricordiamo vale dal primo al 31 di luglio 20 milioni per i club italiani che non sono pochi considerate le difficoltà che hanno economiche le nostre società e 12 milioni invece qui molto più pericolosa molto più rischiosa per i club stranieri la possono pagare senza problemi in premier o in arabia tra l'altro un club arabo se l'ha fatto avanti in maniera importante per dibara proponendo un internale da 20 milioni a stagione ipotesi cestinata dalla hoia che preferisce restare in giallorosso roma che ottimista sul rinnovo e quindi dopo i rinnovi del napoli vicini anche i rinnovi in casa a proposito di rinnovi risaliamo la penisola andiamo a milano sponda inter perché l'inter è pronta a blindare i suoi gioielli a proposito di offerte ricchissime dall'arabia saudita un club della saudi league ha offerto un quadrennale fantasmagorico all'autaro martinez ve ne avevo parlato ieri le cifre che a me risultavano erano 40 milioni a stagione più bonus qualcuno addirittura in argentina ha scritto 60 comunque sono cifre clamorose considerato che lui guadagna 6 milioni 200 mila euro più premi arriva massimo a 7 e mezzo beh l'autaro ha detto no l'autaro non se la sente di andare in arabia saudita con tutto il rispetto vuole restare in europa da protagonista sta molto bene all'inter di cui adesso è sempre più simbolo leader e capitano quest'anno sarà il vero capitano non avrà più la fascia come gli ultimi mesi della scorsa stagione in coabitazione con samirandano vicio marcello brosvi ci sarà lui la stella sarà lui il team leader sarà lui capitano il simbolo della squadra l'autaro che si sente responsabilizzato l'autaro che a settembre inizierà a dialogare per rinnovo di contratto con l'inter con adeguamento dello stipendio intorno ai 7 milioni e mezzo stagione più bonus fino al 2028 il suo agente l'andro camagno è pronto a fine mercato entrare nel vivo anche perché questa offerta ovviamente in qualche modo va contabilizzata hai detto no vuoi restare all'inter per voi sono importante giustissimo però a quel punto è giusto anche ricevere un piccolo e sostanzioso adeguamento di contratto e dunque inter l'autaro prove di rinnovo inter l'autaro avanti insieme sì ma inter l'autaro si lavorerà anche al prolungamento del contratto in scadenza con ovviamente relativo aumento del salario che tra l'altro l'autaro ha dimostrato di meritare a progetto di giocatori che hanno dimostrato di meritare il rinnovo e beh c'è federico di marco federico di marco che è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione federico di marco che non ha fatto rimpiangere ivan peresic non dimentichiamoci che un anno fa di questi tempi si diceva l'inter si indebolita perso peresic che era stato il miglior giocatore dell'inter 22 23 federico di marco ha fatto gli sessi gol ha fatto gli sessi assist è un giocatore italiano prodotto del settore giovanile guadagna poco tra virgolette poco ovviamente calcisticamente parlando che guadagna un milione e otto è uno dei meno pagati nella rosa dell'inter uno dei meno pagati in assoluto tra i titolari e quindi merita e chiede un adeguamento del contratto in scadenza 2026 si lavora a rinnovo sino al 2028 c'è intesa con rock nations il gruppo che lo rappresenta per la durata sulle cifre c'è da lavorare l'idea del giocatore sarebbe di passare a 3 3 milioni e mezzo netti a stagione l'inter vorrebbe arrivare a due e mezzo più bonus anche qui insomma i contatti andranno avanti in queste settimane si entrerà nel vivo in autunno sono in programma tra settembre ottobre questi rinnovi da parte dell'inter ma di marco ha dimostrato di meritare insomma un sostanzioso aumento un sostanzioso comunque adeguamento del salario per quanto dimostrato sul campo per quanto fatto per il rendimento avuto e quindi l'inter è pronta se vogliamo come ha fatto con bastoni e con cialanoglu in questi mesi a blindare poi due giocatori che sono assolutamente il presente ma anche il futuro per età del club perché non dimentichiamo che insomma sia l'autaro che di marco hanno 26 anni sono dei classi 97 quindi hanno tutto per essere protagonisti ancora lungo e l'inter è pronta a blindare questi due giocatori onde evitare anche poi nel corso dei prossimi mesi rischiose tentazioni perché poi quando il giocatore non guadagna tantissimo possono arrivare all'orizzonte delle altre pretendenti pretendenti che ci sono adesso lo sguardo godiamo in europa e in tutto il mondo per chilean bappé il grande caso del weekend il separato in casa colui che ha rotto col paris saint germain colui che fa la guerra una superpotenza come il pari che finora con i soldi aveva sempre comprato tutti non dimentichiamoci due anni fa aveva strappato la promessa è completata l'anno scorso del rinnovo di mbappé 50 milioni netti a stagione per due anni con opzione per il terzo che probabilmente non scatterà l'opzione perché deve essere accettata da mbappé e vidimata e lui non lo farà 100 milioni alla firma di bonus insomma un'offerta fantasmagorica ma non basta perché lui se va via a 0 a madrid ne va a prendere 100 e si è promesso al real madrid il pari san germain ha capito l'antifono il pari san germain non ci sta lo vuole vendere subito sta provando a forzare la mano minacciando il giocatore dicendo oltre alla tourna in giappone tu stai fermo tu salti tutto il precampionato tu non giochi se rimani a parigi hai un anno in tribuna nell'anno che porta all'europeo comunque è vero che mbappé è un campione non si discute ma un anno fermo insomma rischia di compromettere e pregiudicare quella che è la sua carriera ovvero quella di un futuro numero uno al mondo anche pallone d'oro e non solo e quindi mbappé sta riflettendo cosa fare c'è si è chiesto informazioni economicamente c'è si potrebbe anche mettere sul piatto 200 milioni per il pari quindi attenzione a toad boy che è pronto a scendere in campo anche se il giocatore ha d'accordo con real madrid e aspetta i blancos di florentino perez ma la notizia di oggi è un'altra che ho raccolto ed è clamorosa vi ricordate l'assalto dell'ali lal a lionel messi a marzo aprile 400 milioni a stagione per due anni con opzione per il terzo a mbappé hanno fatto la stessa offerta 400 milioni netti a stagione diventerebbe in assoluto il più pagato al mondo superando i 300 milioni che guadagna in arabia saudita al nas cristiano ronaldo 400 milioni a stagione per tre anni e non avrebbero problemi a far diventare mbappé giocatore più pagato della storia il record di neymar 222 milioni loro pagherebbero anche 250 il pari ha già detto sì ovviamente lì tra arabi sceicchi è un po' diciamo una unione di intenti tutto in famiglia passatemi questa battuta ma mbappé di andare in arabia al momento nonostante questa offerta fantasmagorica non ci sente e voi cosa fareste al posto di mbappé accettereste questa offerta monstruosa dall'arabia o aspettereste il real o andreste al celsi o rischiereste di restare fuori rosa a parigi per poi andare a madrid a zero nel 2024 ditemi la vostra voglio i vostri pareri i vostri commenti le vostre opinioni le vostre domande lasciate quindi appunto il like e un commento qui sotto al video fa bene l'intero ovviamente a blindare Lautaro e Di Marco le mosse del Milan i rinnovi di Roma e Napoli la blindatura di Di Lorenzo la blindatura di Di Bala voglio i vostri feedback e le vostre opinioni ma soprattutto continuate a seguirmi mettete il like al video iscrivetevi al canale siamo in tantissimi stiamo continuando a crescere voglio ringraziarvi per il vostro affetto e insomma sarebbe bello continuare ad aumentare sempre di più quindi perdete due secondi mettete il pollicione cliccate il like al canale iscrivetevi è gratis non vi costa nulla ma più siamo meglio è più ci divertiamo a domani buon sabato sera